E' un gioco totalmente diverso. Ehi, vieni da noi dopo. Vi rimbocco le coperte? No, continuiamo a parlare. Vi capita spesso di volere la stessa ragazza? Meno di quanto immagini. Di solito abbiamo gusti diversi. Quindi dovrai essere lusingata. Perché tu non piace a tutti. Qui dai. Chi? Delle due vuoi chi? Non è innamorato di te. Pensi che voglia qualcuno innamorato di me? E' bello vederti in fissa per qualcosa, anche se è la mia ragazza. L'allenatrice di arte, Tashi Donaldson, è anche sua moglie. Io gioco per noi due, Tashi. Forse ti disturba il fatto che le possa essere piaciuto uno come me. Quando eravamo adolescenti. Quando eravamo adolescenti. Ehi, ti amo. Lo so. Tu non sai cos'è il tennis. E' una relazione. Siamo stati in un posto bellissimo insieme. E andiamo! Mi prendo molta cura dei miei due piccoli bianchi. Era tutto un piano. Non questa parte. E' un po' di più. Siamo venuti da Dutti e siamo lasciando tante fagate, abbiamo lanciato un tour che praticamente è quasi tutto sold out e sto lavorando al disco e ha portato tanta fortuna. It helped me understand that I'm not very good at the sport, I think that's the best I can say. And in life? In life I know not to get into a three-way relationship, it's Difficult, complicated. I think it's incredibly exciting, beginning to end, it's racy. I think she is strong, I think she knows what she's doing and I think as she gets older I think she becomes more and more kind of like sharper in what she's choosing. I think it's about control and I think it's about a weird bit about status, I think, you know, it's about American culture and status and how we all look at luxury. I think it's about to say thank you. Thank you. Hey, Berg. Hi. I started out here. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I think there's a lot of things to like and dislike, which I think is what I like about it, right, is that she's multifaceted and she's complicated and I think a lot of people will have very conflicting feelings about her when they leave. And that's exciting for me to play. Thank you. Thank you. Bye. Hey, the olders. Are you coming over? I'm coming over. Bye. Okay. Bye. 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 Bye.